Ma l'altro è che il problema non convoccherà anche la deduzione ancora della sinistra. No, 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 non è una prosecuzione. Ma infatti, allora, il nostro progetto preventivo è che se non essessi interrompa la viabilità, però troppo è che non è proprio prevenuta la cittadina. Scusa, non è un'attività, non è un'attività, non è un'attività, non è un'attività. Scusa, non è un'attività.